Qualunque esperienza della vita, che sia luce o suono, un gusto, un odore o una sensazione, qualunque forma di esperienza di dolore o piacere, ogni esperienza che hai è essenzialmente veicolata attraverso la tua colonna vertebrale. Se la colonna viene tolta o se ciò che passa attraverso la colonna viene in qualche maniera dislocato, non ci sarà alcuna esperienza. Abbiamo sempre simboleggiato la colonna vertebrale come l'asse dell'universo. Perché essenzialmente conosci l'universo solo dal contesto della tua esperienza. Non c'è altro modo di conoscerlo. Non conosci niente in questo mondo senza il contesto della tua esperienza. Sì? Capisci cosa sto dicendo? È solo tramite ciò che sta accadendo dentro di te che sai o pensi di sapere. Siccome conosci l'esistenza solo dal contesto della tua esperienza e la base della tua esperienza è ciò che viene veicolato attraverso la tua colonna vertebrale adesso, la colonna viene vista come l'asse dell'universo. Oggi sappiamo che l'intero sistema solare è una massa così piccola in questo cosmo. Domani mattina, se l'intero sistema solare evapora, non ci sarà nessun grande vuoto, solo un piccolo spazio vuoto. Il resto del cosmo non lo netterà nemmeno. Ecco quanto è insignificante. Quindi, nello yoga sono andati in una dimensione diversa e hanno detto la tua colonna vertebrale è l'asse dell'universo. Non dicono questo perché credono che tu sia al centro dell'universo, ma perché sei in grado di conoscere l'universo solo a partire dal contesto della tua esperienza e la base della tua esperienza è nella tua colonna vertebrale. Se un individuo deve davvero determinare la natura della propria esperienza su questo pianeta al 100%, allora avere un po' di padronanza sulla colonna diventa essenziale. Solo colui che in ogni caso determina la natura della propria esperienza oserà esplorare il pieno potenziale della propria vita perché non esiterà ad implicarsi in nessuna cosa. se la tua esperienza è determinata da qualcos'altro che te stesso naturalmente cercherai di evitare alcune cose e di perseguire alcune cose. Qualunque cosa che pensi provochi o stimoli delle esperienze piacevoli la persegui qualunque cosa pensi che creerà delle esperienze spiacevoli te ne allontanerai. Una volta che questa divisione accade nella tua consapevolezza che dividi l'esistenza in due conoscere l'unità assoluta diventa inutilmente difficile così tanta enfasi su gioia amore beatitudine è semplicemente per questo affinché la tua esperienza non sia determinata da qualcos'altro una volta che se stai seduto qui pensi che questo albero crei un'esperienza piacevole per te e quell'albero crei un'esperienza spiacevole per te naturalmente non andrai mai in quella direzione rimarrai solo qui intorno questo è ciò che sta accadendo ora questo è ciò che sta accadendo con ogni aspetto della vita una volta che dividi il mondo le persone che ti stanno dicendo delle cose sciocche che dovresti amare i tuoi nemici non so perché devi rendere la tua vita così difficile prima rendi qualcuno un nemico e poi cerchi di amarlo è molto difficile non è molto difficile se non lo rendi tuo nemico sarebbe facile lo rendi tuo nemico e poi cerchi di amarlo questa è una condizione impossibile no? cercano sempre di fissare delle cose impossibili per te così che costantemente andrai lì osserviamo le possibilità salvo se non dividi il mondo è molto difficile abbracciare il mondo non è così nella tua consapevolezza se dividi che questo è mio questo non è mio puoi cercare di afferrare ogni cosa è molto difficile ogni cosa è mia o nessuna cosa è mia questo va bene nessuna cosa è mia questo è un modo va bene oppure ogni cosa è mia questo va bene funzionerà queste sono soluzioni attuabili sei il mio nemico ma ti amo questo è molto molto difficile è una tortura e il fondamento per dividere il mondo è che da qualche parte un'entità causa piacevolezza un'altra entità causa spiacevolezza dentro di te ecco perché dividi il mondo non è così è essenzialmente una modalità di sopravvivenza sai che se vai qui sarà spiacevolezza sai che se vai là sarà piacevolezza quindi lentamente inizia ad andare lì 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 non lì e dopo un po' di tempo non puoi andare lì affatto perché conosci il livello di spiacevolezza che accade dentro di te solo se stai determinando la natura della tua esperienza puoi mantenerla piacevole dentro di te non importa dove ti trovi se le persone causano spiacevolezza lo possono fare solo intorno a te mai dentro di te una volta che questa libertà esiste è solo allora che puoi essere davvero inclusivo altrimenti rimani bloccato ogni piccolo suono che senti vedi se riesci a veicolarlo attraverso la tua colonna ogni cosa ciò che vedi vedi se puoi veicolarla attraverso la tua colonna adesso sto parlando il suono in sé non scorre attraverso questo cavo ma sotto forma di impulso elettrico sta attraversando questo cavo fino agli altoparlanti poi boom se taglio questo quello non funzionerà questo non funzionerà la colonna vertebrale è proprio così la colonna vertebrale di per sé non conosce niente ma sta veicolando ogni cosa solo colui che capisce che tutto questo mucchio di cavi là fuori può gestire questo suono correttamente come dovrebbe essere stiamo avendo dei problemi sai a causa di troppi cavi solo se capisci ogni cavo che sta lì fuori puoi gestire il suono proprio come vuoi tu altrimenti nel frattempo molte cose accadranno lo stesso con questo se hai un po' di padronanza su come viene trasmessa allora puoi garantire che tipo di esperienza stai producendo per te stesso altrimenti ogni cosa diventa accidentale una volta che l'esperienza stessa della vita cade accidentalmente una volta che il tuo modo stesso di essere è accidentale se esisti qui accidentalmente allora è come essere una potenziale calamità sai la semplice paura cosa mi accadrà cosa mi accadrà distrugge ogni cosa la bellezza e la grazia di esseri umani andrà completamente persa una volta che la paura del cosa accadrà è lì nella mia mente poi gli animali se la cavano piuttosto bene la tentazione innumerevoli filosofi sono andati nella foresta hanno guardato la vita tranquilla e delicata non si può dire delicata la vita naturale tranquilla che gli animali hanno le persone ne sono state incredibilmente attratte e hanno cercato di trasferirsi nella foresta e vivere proprio come loro semplicemente questa attrazione è alla grande per via del caos delle società umane ma ciò che devi capire è che non funzionerà mai perché il senso di pace che un animale possiede proviene da un certo livello di incoscienza un certo livello di inconsapevolezza non puoi ritornare lì fai ciò che vuoi fai ciò che vuoi non puoi ritornare nella natura inconsapevole di un animale la natura ti ha spinto fino a questo livello di consapevolezza sforzati quanto vuoi puoi mettercela tutta e diventare consapevole non puoi mettercela tutta e diventare inconsapevole osserva per favore almeno questo la natura lo ha sistemato per te che puoi solo andare avanti non indietro i filosofi altri vari tipi di persone hanno cercato di vivere semplicemente quanto gli animali sperando che la vita diventasse accettabile ma non ha funzionato non è la complessità della situazione esterna che sta facendo questo è solo che non stiamo determinando la natura della nostra esperienza dentro di noi